Le abbiamo intitolate Cartoline da Ier, iniziamo dal 4.70 e dal fin, proprio le due classi che sono a forte rischio di non conferma olimpica nel programma olimpico della vela in questi giorni del Mid-Year Meeting a Londra di World Sailing. Questo nostro servizio su Ier, l'ultima tappa di Coppa del Mondo prima della finale di Marsiglia, quella che in qualche modo fa da preludio a ciò che succederà, come sapete, a Genova nel 2019-2020 perché proprio Genova sarà quello che è stata Ier quest'anno, cioè l'ultima tappa della Coppa del Mondo prima della finale che sarà in Giappone. Ebbene, queste immagini, queste cartoline appunto dalla celebre sede olimpica della vela olimpica di Ier ci portano in qualche modo a fare un po' il punto di quella che è la situazione della nostra squadra olimpica, della vela olimpica azzurra, non solo, ma della vela olimpica in generale, proprio perché in questi giorni, come vi dicevo, si svolgono importanti decisioni al Mid-Year Meeting di Londra. La tappa di Ier ha confermato soprattutto, oltre alla bella organizzazione francese, le nostre punte di diamante. Ruggero Tita e Caterina Banti, qui vediamo anche Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi, insomma nel Catamarano siamo andati davvero molto bene. Tra poco sentiremo proprio l'intervento di Ruggero Tita. Abbiamo un atleta da tenerci davvero stretti. Cosa c'è dietro di loro? Questo è un altro discorso, ma intanto sentiamo Ruggero. I primi giorni sono stati di vento leggero, ci hanno fatto soffrire parecchio, però l'ultimo giorno per fortuna abbiamo avuto un bel vento più sostenuto, che è quello che ci piace, con cui ci alleniamo spesso e quindi abbiamo fatto molto bene, siamo riusciti a vincere prima della medal race. Vincere prima della medal race non è cosa da poco, era già successo a Palma, significa avere una superiorità che va oltre il punteggio delle qualifiche. Questo Ruggero e Caterina lo sanno. Sentiamo il direttore tecnico Michele Marchesini. Assolutamente dobbiamo iniziare da Ruggero Tita e Caterina Banti, che portano a casa la vittoria alla settimana di ieri con un giorno di anticipo, così come abbiamo fatto Palma. E questi sono risultati molto importanti, che proprio marcano una carriera agonistica di alto livello. Eccezionale il rientro di Bissaro, che dopo aver patito, qui abbiamo forse qualche problema di non essere in target completamente con il peso, dove aver patito quindi un po' il vento leggero dei primi giorni, anzi anche molto, perché in seconda giornata mi pare fosse ventitresimo, comunque molto in basso in classifica. E' riuscito a rientrare con una prova di carattere, di fiducia in se stesso, sia lui che naturalmente Mael Frascari. Ritornare a vedere Bissaro Frascari tra i primi posti e a giocarsi possibilmente un posto sul podio è di estrema soddisfazione. Benissimo, ha il terzo Nacra in medal race, conferma che siamo un'entità catamaran foiling, se mi permettete, importante. Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi, molto bene anche qui. Abbiamo ritrovato Mattia Camboni, ha fatto una bella settimana, delle belle prove, si è difeso con vento leggero, quando c'è stata più pressione ha combattuto bene, ancora qualche sbavatura, ma entrare in medal race era assolutamente l'obiettivo qui. Ci entriamo con un buono score, in funzione preparazione e sviluppo siamo contenti. Bene anche il 2.4, così completiamo il quadro delle classi che si sono qualificate per la medal race. Antonio Squizzato è assolutamente un'atletta di valore, una certezza a livello internazionale in questa classe paralimpica. In mare in questi giorni mi sono focalizzato particolarmente sui 470, in primis femminile ma anche maschile. Anche qui non sono terminate le regate di flotta, ma anche qui in questo momento abbiamo due equipaggi in top 10. Si tratta di equipaggi molto molto giovani, Benedetta Di Salle e Alessandra Dubini, come Giacomo Ferrari e Giulio Calabro. Si è seminato parecchio, ci sono stati grandi investimenti, i ragazzi sia da parte della federazione che da parte dei loro circoli, da parte in primis di loro stessi. Abbiamo un programma completamente nuovo con la coppia Zandona Zucchetti che si è ricongiunta ad allenare il nostro team di 470 dopo aver fatto insieme grandi cose, la più importante probabilmente è il quarto posto dell'Olimpia di Londra. Quindi ho speso parecchia attenzione su questi ragazzi in acqua in questi giorni e devo dire che ho visto tante cose belle. Ci sono anche altri equipaggi che vanno un po' sistemati, però l'impostazione c'è. C'è un buon affiatamento, devo dire che mi sento molto vicino sia direttamente sia indirettamente con i ragazzi, indirettamente mi riferisco al rapporto anche che c'è con i tecnici. Il gruppo sta lavorando molto bene, c'è affiatamento e si va avanti aiutandosi a vicenda, superando quelle che sono le difficoltà che si trovano giorno a giorno e anche in tematiche più grandi. È una bella soddisfazione, sì. Dal punto di vista tecnico si tratta di schemi, di protocolli di lavoro, di calendari, di applicazione. Poi c'è tanto da dare dal punto di vista dell'esperienza, soprattutto più che dall'approccio mentale. Abbiamo tanti ragazzi, come dicevo poco fa, molto giovani ai quali serve esperienza internazionale, serve una bussola nell'orientare la propria campagna olimpica o comunque la propria sfida. Serve anche essere un po' psicologi, aiutare soprattutto nella motivazione e nella periodizzazione. Questi appuntamenti a tappe di Coppa del Mondo, regate importanti internazionali, quali possono essere Ier, Kiel, Made in Bleak, ma soprattutto Ier, dove abbiamo tutta la squadra insieme, che abbiamo quindi una presenza collegiale, diventa una regata ma allo stesso tempo un raduno, sono degli appuntamenti importantissimi. Poi serve molto per cementare, così come era stata anche Miami all'inizio dell'anno, serve molto per cementare lo spirito di squadra e la coesione. Non dimentichiamoci, quest'anno andiamo ad affrontare un campionato del mondo, che è quello unificato World Sailing, che avrà le stesse caratteristiche. Quindi Ier va bene anche per questo. Ier va bene sempre, diremmo noi. Lunga vita a Ier, come dice il direttore d'Ecchio, Michele Marchesini. Ci sono naturalmente delle osservazioni da fare, lui ha detto bussola, esperienza, cessione di esperienza di quella che è la sua esperienza, a tanti giovani equipaggi che fanno parte della squadra azzurra. Effettivamente ci sono molti giovani, soprattutto nella classe 470 femminile, stiamo vedendo qui in azione proprio questa classe, dove abbiamo vinto parecchi podi a livello internazionale, quindi ci sono dei prospetti sicuramente su cui lavorare. Ovviamente Ier ha detto anche, ha dato dei segnali su classi in cui invece c'è da lavorare, su come si può lavorare. Una è l'FX, il 49er FX, lo skiff femminile, Perse, Giulia Conti e Francesca Klapcic. Si sapeva che si ricominciava in qualche modo da zero. Ci sono stati tanti cambi di equipaggi vorticosi, ci dicono che tanti ce ne saranno anche nella classe 470 femminile, ma comunque Maria Ottavia Raggio e Iara Germani, in questo momento avendo ritrovato un po' una continuità di equipaggio, sono forse in questo momento il team su cui in qualche modo si può puntare. Che questo sia valido a livello anche olimpico è tutto da dimostrare, ma comunque il diciottesimo posto a Ierri in Coppa del Mondo per questo equipaggio molto giovane può essere un primo segnale. Qualche invece riflessione più profonda viene dallo skiff maschile, il 49er. Qui abbiamo sempre parlato di un numero di equipaggi giovani importante su cui lavorare, su cui lavorare per il tecnico della classe Luca De Pedrini, adesso per Gianfranco Sibello. Qui c'è stato qualche passo indietro, o perlomeno c'è da lavorare sicuramente di più con i ragazzi del 49er. Per quanto riguarda il laser è stata la grande settimana di Marco Benini e adesso chiudiamo con i bravissimi 470isti Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò. Sono stati cinque giorni di regata, più oggi la metà race, veramente complicati, sia dal punto di vista meteo, delle condizioni e soprattutto dal punto di vista tattico. Comunque la flotta è al completo, non manca nessuno. È stata una vera prova generale per Arus, quindi siamo contenti. Abbiamo lavorato molto bene con Gabbro e Pietro e con tutta la squadra della federazione quest'ultimo periodo. Abbiamo saltato palma proprio per allenarci. Il lavoro si vede e speriamo di continuare così, proprio in vista dell'appuntamento di agosto. È stata molto faticosa sia dal punto di vista proprio fisico, perché eravamo tutti attaccati e soprattutto agli approcci in boa e al gate finale ci siamo giocati quelle due o tre posizioni che poi ci permettevano di rimanere all'ottavo posto in classifica. Quindi abbiamo dato tutto e siamo molto molto soddisfatti. Tra due settimane l'Europeo in Bulgaria e poi abbiamo la finale di Coppa del Mondo a Marsiglia. Sono due appuntamenti comunque molto importanti. Preferiamo pensare step by step. Ora Arus sì è molto importante nella stagione, però è ad agosto, quindi abbiamo ancora tanti mesi di lavoro. e ora da lunedì già si ripensa all'Europeo in Bulgaria, che è il primo appuntamento perché comunque è un titolo continentale e va rispettato al massimo. Sicuramente il nostro obiettivo è quello di ora la priorità è all'Europeo, fare un bello europeo, confermare il gruppo B o quello che verrà all'Europeo, così poi Arus l'unico problema, l'unica preoccupazione sarà quella di qualificare la nazione. Faremo il possibile. Abbiamo visto qui che se facciamo una bella regata è alla nostra portata. Grazie.